Celebrata oggi nell'aula magna del Convitto Cotugno la giornata europea dei giusti per onorare donne e uomini che hanno operato per difendere la vita e la dignità umana. Messia di mora anche delle piante dedicate a Federico Costantini e Mascia Zinanini, nel Giardino dei Giusti e delle Giuste, creato nel 2019 per iniziativa del Convitto e con l'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea. C'era anche la professoressa Carla Piccone, ex docente dell'ITIS. Proprio lei ha riportato in auge alcuni ricordi importanti come quello ad esempio dei nove martiri. Omaggiato anche Osvaldo Caruso, ex internato militare italiano, che era presente in sala davanti agli studenti e che tra poco compirà 100 anni. Io credo che in un momento come questo lo è ancora di più, perché stiamo vivendo una realtà inimmaginabile fino a due o tre anni fa, quando la guerra si sembrava molto lontana, non era scomparsa nel mondo, ma ci appariva distante. Oggi sappiamo che non è così, sappiamo che le giovani generazioni ovviamente tengono alla pace, però la memoria storica è importante per rafforzare questi valori. Noi oggi dedicheremo due targhe a due personaggi importanti, un internato militare e soprattutto Mashamini, che è stata la ragazza iraniana, kurda iraniana, che è stata uccisa dalla polizia morale per non aver indossato il velo, per aver contestato appunto lo stato islamico. Grazie a tutti.